Ecco, posso lanciare la mia presentazione che ho titolato Scrivere inclusivo si può perché ho preso spunto da una mia vecchia presentazione che era comunicare inclusivo si può. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del concetto di scrittura e di comunicazione inclusiva che è un termine forse più azzeccato rispetto al termine che si usava una volta dal punto di vista tecnico che era la comunicazione accessibile ma io ritengo che questi due termini siano sinonimi. Dobbiamo includere e quindi anche nella comunicazione perché questo è un tema che, benché sia più facilmente gestibile, è simile all'inclusione anche rispetto alle cosiddette barriere architettoniche. Allora nel momento in cui noi comunichiamo e ci relazioniamo dobbiamo cercare di avere le stesse attenzioni che ormai per legge siamo obbligati a tenere nel momento in cui noi costruiamo degli ambienti che per loro natura sono destinati al pubblico e quindi eliminando le barriere architettoniche all'accesso e quindi questo è un po' un dovere di ogni comunicatore pubblico così come di chiunque lavora in un'istituzione che fa un servizio pubblico comprese ovviamente le scuole. Poi ci saranno una serie di slide su alcune indicazioni di scrittura dei documenti quindi accessibili e facili da consultare alcuni riferimenti sull'accessibilità o sulla inclusività di testi e dei media che però sono state poi relegate poc'anzi nell'appendice e nell'appendice troverete anche alcuni elementi per la diffusione libera dei contenuti e delle esperienze partendo da un concetto forte che peraltro costituisce una delle azioni del piano nazionale della scuola digitale che è quello della diffusione delle risorse educative in modo aperto partendo da un principio importante che la scuola è inserito in un sistema di istruzione che ha il compito proprio costituzionale di essere libera e aperta e quindi ciò quelli che sono i contenuti culturali che sono veicolati nei nostri ambienti scolastici è opportuno che siano distribuibili con la possibilità di riuso di riutilizzo. Non si tratta di plagio o di cose di questo tipo ci sono dei ben riferimenti anche in chi ha studiato di più questi settori che dicono se tu prendo una mia idea e me la copi mi fai un favore perché in un certo qual modo la rimetti in campo con l'idea di creare dei nuovi impatti partendo dal presupposto che i contenuti culturali così come quelli dell'istruzione abbiano la caratteristica di potersi poi ampliare rigenerare a seconda del contesto in cui sono utilizzati. C'è una bellissima frase di un altro grande, di un grandissimo riferimento un altro oltre a Giancarlo Cerini nel mondo dell'istruzione qualcuno di voi sicuramente lo conosce si chiama Franco Lorenzoni che nell'incontro di ricordo su Mario Lodi trovate la bellissima registrazione nel sito di Indire appunto diceva noi docenti abbiamo una cosa forse che ci contraddistingue a volte da chi lavora in altri ambiti lui faceva anche riferimento con i docenti universitari e che noi a noi piace distribuire a noi piace regalare a noi piace che delle idee possano essere riutilizzate e per questo che abbiamo le magari nella primaria di due ore e per questo che noi rivendicheremmo dice Franco Lorenzoni le due ore alla settimana come uno degli elementi importanti di base contrattuale anche nelle scuole che non sono nella scuola primaria ma anche negli altri settori dell'istruzione poi nell'appendice ci sono ulteriori risorse allora un pochettino ho già introdotto il tema sulla comunicazione inclusiva che potremmo dire prende un pochettino le sue premesse, la sua origine da alcuni movimenti nati in Gran Bretagna quando si rifletteva sul linguaggio per estendere degli atti amministrativi essi ci si interrogava sulla semplificazione anche del linguaggio amministrativo negli anni 90 tutto questo è stato raccolto anche in Italia ci sono state anche delle esperienze molto interessanti, il progetto Chiaro c'era il ministro Frattini che aveva anche scritto tutta una serie di indicazioni per la redazione di documenti amministrativi che possono essere più vicini alla lingua parlata dei cittadini in quei tempi c'era anche tutto il lavoro di Tullio De Mauro sul vocabolario di base e in pratica c'era un movimento importante che invitava le pubbliche amministrazioni e per prime le scuole a costruire, a scrivere documenti che fossero innanzitutto chiari e comprensibili nel momento in cui sono rivolte al cittadino medio non stiamo parlando quindi di testi scientifici e neanche di testi didattici che ovviamente usano un linguaggio che deve essere ben rigoroso e che deve essere allineato con l'età dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze ma stiamo parlando in maniera più specifica di tutta quella parte dei documenti che si rivolgono al cittadino o alla cittadina e quindi si diceva anche negli atti amministrativi come riuscire a mettere insieme la legittimità dell'atto potremmo dire anche delle nostre circolari o anche di tanti atti amministrativi che quotidianamente vengono elaborati dalle scuole con il concetto di chiarezza nascevano tantissimi manuali di stile uno famoso di Alfredo Fioritto che addirittura in uno dei suoi testi dell'inizio del 2000 indicava e quasi anche a noi persone di scuola anche se si riferiva soprattutto ai comuni e quindi a maggior ragione a noi un arrovesciamento anche della scrittura dell'atto amministrativo invitandoci e poi non siamo stati in grado e neanch'io sono stato capace a portare avanti questa sollecitazione invitandoci ad esempio a dire via a tutti quei considerati visto, 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 visto che occupano magari due o tre pagine dei nostri atti amministrativi il cuore messo alla fine se tu ti rivolgi al cittadino devi dirgli prima qual è il senso del documento poi snellisci quella parte e se proprio è necessaria quella parte mettila in fondo mettila dietro non come inizio non come premessa perché la comunicazione non segue l'ordine logico della non so come dire del passaggio temporale dell'informazione che prima acquisisce e si riflette sui documenti vigenti e poi si esprime la comunicazione è una relazione tra persone e come tale abbatte tutto quello che è una sequenzialità apparentemente logica a favore dell'efficacia e quindi questo contesti pensati scritti per essere compresi vicini alla lingua parlata dei cittadini insisteva molto Giulio De Mauro su questo aspetto sul suo vocabulario di base a scuola noi abbiamo qualcosa in più perché noi abbiamo un contatto continuo diretto con le persone con le quali ci relazioniamo e quindi abbiamo un valore che moltiplica questo aspetto e questa urgenza che è fatto da tutte un'altra elementi anche di postura nei confronti delle persone che frequentiamo che dà valore già di per sé moltiplicando l'aspetto del senso delle cose che noi comunichiamo scriviamo diciamo e quindi si parlava di legittimità e chiarezza la cui intersezione portava l'efficacia nella prima decada del 2000 2003 la legge stanca sull'accessibilità è nata un'altra sensibilità e qui in Italia questa volta è stata un pochettino più avanti anche delle altre nazioni che poi dopo più convintamente però hanno proseguito su questo aspetto è il discorso della universalità cioè io non soltanto comunico per farmi capire ma aggiungo un pezzettino a volte dimenticato anche da quelli che sono gli aspetti più diciamo importanti esperti della chiarezza ma non solo cerco di farmi capire ma da tutti questo da tutti è quello che dà senso dell'attenzione nei confronti di chi accede ai nostri testi in altro modo e quindi c'è un riferimento esplicito anche alle persone con disabilità rispetto ai quali e qui era nato proprio nel 2003 la legge stancca che subito andava a impattare sulla comunicazione web cioè sui siti web sì Daniela De Martin non ci sono problemi e rilascerò poi i materiali ecco e dicevo sul web in modo che ciascuno potesse riuscire ad accedere a quel contenuto con un altro caposaldo le persone con disabilità non devono avere delle versioni differenziate di una risorsa di un contenuto ad esempio web ma deve essere chi costruisce il contenuto che deve essere attento a renderlo fruibile al maggior numero di persone possibile e allora ecco che il discorso di accessibilità è entrato proprio a svilupparsi nella cultura anche tecnologica se vogliamo della nostra nazione e in maniera ancora più convincente anche in altre nazioni l'accessibilità è nata negli Stati Uniti e della verità e con una riflessione allora su questo concetto di accessibilità di comunicazione inclusiva con una piccola escursione per quello che riguarda la fruizione dei contenuti nel web eravamo un po' ai primordi dei siti web a volte venivano costruiti con dei programmi molto automatici non c'erano ancora quelli che si chiamano CMS che sono pratica di sistemi di generazione automatica dei contenuti tipo dei blocchi e troviamo anche nel web e nel digitale dipendono molto dal tipo di disabilità cosa dà fastidio può dar fastidio a chi ha alcuni approcci che non sono quelli standard diciamo così o quelli più comunemente utilizzati quindi inclusione per tutti e web i testi lampeggianti i testi sotto forma di immagine lo recupereremo purtroppo tante troppe volte i ministeri compreso il nostro ora sono molto più attenti finalmente veicolavano dei contenuti facendo la scansione del documento anche noi scuola non dobbiamo farli anche nel momento in cui andiamo pubblicare in albo perché un documento scansito come immagine è un documento vietato secondo due motivazioni uno non è un documento ricercabile le leggi sull'amministrazione aperta piuttosto che sulla accessibilità dei contenuti richiedono che il test di ogni atto amministrativo possa essere ricercato da un motore di ricerca se io metto un testo e faccio la scansione immagine questo testo non è ricercabile quindi contraviene a uno dei pilastri anche della comunicazione digitale con tutte anche le nostre parti che dobbiamo in buona parte di cui dobbiamo in buona parte tenere conto quindi il primo elemento è questo poi c'è un secondo elemento che ovviamente è un testo ridotto a immagine è un testo che esclude dalla fruizione le persone che utilizzano gli screen reader che sono degli strumenti che consentono alle persone ad esempio con problemi visivi di sentire l'audio al posto di leggere il testo la persona non vedente non può leggere deve sentire ecco che allora questa è una barriera comunicativa che in tempi di inclusione non è accettabile poi il discorso dell'inclusione dei testi se vogliamo va anche su altri ambiti ad esempio anche nei social consiglio allora se parliamo di comunicazione inclusiva e quando noi nei social mettiamo un'immagine di un'estrazione un estratto magari di un libro stando attenti agli diritti d'autore e tutto il resto ma ci capita di farlo ora anche un'immagine presa dai nostri appunti dovremmo avere sempre l'accortezza insieme all'immagine di inserire anche il testo perché in questo modo noi consentiamo anche a tutti i cittadini e le cittadine non vedenti che accedono ad esempio a un social di fruire di quella comunicazione altrimenti è come se noi dicessimo tu no e capiamo che in termini anche di democrazia della parola l'esclusione vuol dire che qualcuno non può essere accolto in una stanza che uno pensa di aver lasciato con la porta aperta poi ci sono tanti altri elementi che costruiscono una barriera alla funzione dell'informazione ad esempio la scassità dei contrasti ad esempio un carattere troppo piccolo ad esempio i muri di parole che fanno rendono molto faticosa la lettura a chi invece ha necessità soprattutto su video di avere un minimo più di respiro nella lettura il linguaggio complicato è un'altra barriera e quindi ecco che ancora il discorso della chiarezza entra in gioco come elemento importante così anche i video non sottotitolati o non descritti per sommi capi se io metto un video dell'open day e basta beh certo che lo faccio anch'io l'ho fatto anch'io a volte però devo essere cosciente che in questo caso creo una barriera di ad esempio se un video ho parlato alle persone sorde e quindi ci vorrebbe sempre un accompagnamento all'atto in termini inclusivi ma in realtà la barriera che noi costruiamo alle relazioni e alle comunicazioni non riguardano soltanto l'aspetto per così dire formale della comunicazione o del documento o del contenuto della risorsa web ma riguardano anche l'ambiguità dei messaggi un concetto di rumore una mancanza di relazione è chiaro che se io voglio trovare una soluzione con una persona con cui mi sto rapportando se creo un clima di grande diffidenza sto facendo un'altra cosa non sto cercando una relazione di questo dove essere consapevole così come i blocchi emotivi vanno anche compresi questo nella parte studentesca quindi l'accessibilità a scuola potremmo dire che è anche comunicazione inclusiva allora adesso andiamo più sul tecnico scrivere documenti accessibili e facili da consultare prendendo spunto da un primo parallelo tra la scrittura su carta e invece quella che uno è la lettura diciamo meglio dal digitale allora vediamo poi ho messo qua accanto come esempi ho messo una pagina del Corriere della Sera che è un'immagine per auto di pubblico domenio qui si aprirebbe anche qui un discorso molto interessante sul copyright e sulle immagini libere e sulla nascita della Repubblica italiana e una pagina del Corriere della Sera di due o tre anni fa adesso sono diventate più leggibili e anche le edizioni web dei giornali peccato che mentre uno fino a qualche anno fa poteva leggersi tutti i contenuti dei quotidiani adesso buona parte dei contenuti sono a pagamento e peccato anche che fino a quattro anni fa o cinque la stampa di Torino era stato l'unico quotidiano italiano che forniva tutti gli articoli che metteva sul web con la licenza al riuso erano proprio una licenza particolare che si chiama Creative Commons che consentiva quindi alla persona che leggeva qualcosa di distribuirlo in maniera del tutto lecita a chi voleva era stata una grandissima idea però ormai non si comprende di crisi della carta stampata la necessità di recuperare qualcosa attraverso i contenuti a pagamento è andata ovviamente anche a colpire l'editoria e la comprendiamo allora cosa vediamo qui da quello che è impostato con quei riquadri e qui ci sono anche stati degli studi di usabilità dei testi cos'è che uno legge per primo sono stati studiati messi a confronto fatto dei test proprio con delle persone ciò che la persona legge nel web e lo stesso nei giornali la prima cosa non è mai l'immagine ma sono sempre i testi più grandi cioè la nostra attenzione è calamitata dal rilievo che viene dato al testo che contiene la notizia quindi la notizia è nata in Repubblica Italiana è al primo posto e poi successivamente le altre lo stesso nella versione web e quindi potremmo dire che il movimento è assolutamente analogo c'è da dire che è lo stesso movimento che noi facciamo con gli occhi ogni qual volta andiamo a leggere un documento che proviene da una rivista oltre che da un giornale andiamo a vedere adesso invece due documenti a noi molto diciamo per noi molto consueti che sono le indicazioni nazionali del 2012 e la loro rilettura espansioni indicazioni nazionali nuovi scenari del 2018 io le ho riportate esattamente come erano hanno alcuni elementi analoghi e qualche cambiamento c'è qualcuno che vuole provare a interpretare no? e come primo impatto che differenza trova e che analogie si trovano tra questi due documenti vedete qualcuno vuole intervenire ad esempio vediamo che l'organizzazione mi permetto prego allora il titolo nel 2018 è centrale e non laterale tutto sinistra come invece nel 2012 e c'è una differenza di grandezza di carattere cioè c'è una maggiore differenza di grandezza secondo me almeno da quello che mi appare dal video nel 2012 mentre i caratteri sono più vicini come dimensione nel 2018 e poi è stato diviso in paragrafi nel 2018 mentre nel 2012 è tutto compatto esatto entrambi hanno poi il rientro nell'inizio della prima parola del paragrafo sì secondo te qual è più leggibile il 2018 ma dal mio punto di vista il forse i titoli del 2012 sono più chiari almeno messi così quindi in pratica no è meglio il 2018 perché è più leggibile è meno impattante cioè c'è una una cosa pesante in quello prima del 2012 mentre l'altro ti dà la possibilità di respiro per chi ad esempio come ha fatto lei l'esempio dei ciechi no con è più è più calmo come anche sentirlo con Agrobat Reader esatto quindi esatto qui sono letture personali io mi ritrovo sì sì ma cioè il mio 2012 solo il titolo mi dava una maggiore lettibilità cioè il titolo è forse anche una maggiore adesso tenendo conto di un ingrandimento più o meno simile anche del carattere probabilmente però il grande vantaggio del 2018 rispetto al 2012 che lo rende preferibile malgrado magari un carattere un po' troppo piccolino che potrebbe essere stato un peggioramento potremmo dire di leggibilità ma il fondamentale è che abbiamo un respiro in verticale nella lettura cioè il primo caso sarebbe una scrittura si dice a muro e che quindi non invoglia nella lettura a differenza a volte di quello che capita invece nei libri però i libri hanno delle caratteristiche ben diverse rispetto a una intendendo i libri cartacei a una fruizione digitale e quindi certamente quello del 2018 è facilitante rispetto a questo aspetto ma adesso mi voglio soffermare su quell'elemente iniziale che avevo invece cerchiato allora un fondamento di sembra molto banale dirlo di un documento ben formato è che il documento sia strutturato cosa dire un documento strutturato un documento che abbia delle gerarchie al proprio interno e quali sono le gerarchie sono i titoli i sottotitoli e i paragrafi per sottotitoli per evitare di qualsiasi ambiguità si intendono intendiamo adesso titoli di livello minore allora quando noi redigiamo scostruiamo stendiamo un documento abbastanza lungo oltre le tre o quattro pagine quello che noi dobbiamo fare è pensare di strutturarlo al meglio dal punto di vista logico andiamo sotto a vedere vedete no qui adesso è stato preso la guida dell'autovolizzazione RAV di marzo 2017 noi abbiamo contesto popolazione scolastica poi abbiamo indicatori domande guide siccome questi indicatori domande guide comparivano poi in tutte le varie schede una buona strutturazione del testo avrebbe indicato si dice meglio marcato quel termine indicatore domande guida come titoli di livello 3 naturalmente se dopo 1 il contesto o 2 scelte strategiche secondo voi due scelte strategiche che titolo di livello sarebbe 1 2 3 o 4 2 no no 2 no 2 scelte strategiche 1 perché è fratello di contesto ok vi è chiaro perché non è figlio allora noi dobbiamo immaginare la strutturazione dei testi come un legame di parentela dove abbiamo padri figli fratelli e sorelle e la cosa importante dal punto di vista anche della qualità della fruizione del testo e quindi la facilità di orientamento del testo che è una cosa che molte volte ci dimentichiamo ma si dimenticano anche le persone che stendono i documenti ufficiali importanti come poi sarà facile anche vedere e che vanno scritte tutte nello stesso modo se io scrivo 1 poniamo un spazio di tot millimetri poi contesto scelte strategiche dovrò scrivere con lo stesso carattere con lo stesso colore con la stessa modalità di come scritto contesto poi sotto i titoli a livello 2 devono essere se c'è 1 1 vuol dire che deve esserci 2 punto 1 e poi quello che è il termine di accompagnamento vedete che popolazione scolastica ad esempio un blu è leggermente più tenue quel tipo di colore con la modalità di scelta grafica deve essere conservata in tutti i titoli secondo livello di tutto il documento indicatore domande guide vedete che sono anche gli scritti uguali una buona strutturazione del testo non mi fa scrivere indicatori in corsivo senza marcarlo e poi vedremo come si fa e quindi io non vado a scrivere indicatori semplicemente metto il corsivo poi mi ricordo e anche dopo metterò il corsivo per domande guida e lo stesso cosa per indicatori delle scelte strategiche dovrò dire dovrò comunicare al mio lavoratore dei testi Word dei profis o documenti di google o pages o quello che uso che quelli non sono paragrafi normali ma sono titoli sono si dice marcati cosa vuol dire questo vuol dire veramente due cose molto importanti sulla leggibilità del testo e sulla fruibilità del testo non solo che il mio testo diventerà improvvisamente coerente cioè tutti i titoli a livello 1 scritti nello stesso modo tutti i titoli a livello 2 scritti nello stesso modo tutte le tabelle con un layout uguale tutti i paragrafi scritti nello stesso modo ma vorrà dire che nel momento in cui io navigherò quel documento come Word o come LibroOffice o come Documents avrò sempre accanto un sommario navigabile che mi consente di passare da un punto all'altro ma vorrà dire che quando io farò di questo il PDF manterrò questa stessa struttura mantenendo questo duplice vantaggio ho detto due ma in realtà sono tre c'è un altro vantaggio nel costruire i documenti in questo modo ed è legato alle persone non vedenti vedete questa modalità di strutturazione dei documenti non è un beneficio che noi facciamo ai non vedenti alle persone non vedenti ma è un beneficio che facciamo a tutti comprese le persone non vedenti e questa è inclusione non la strategia differenziata ma aver costruito il documento in modo che vada bene per tutti ed è un qualcosa in più di cui ci avvantaggiamo tutti come vedremo nella lettura dei pdf che purtroppo quasi mai vengono restituiti strutturati ok poi c'è un quarto vantaggio che quando io vado a strutturare il testo marcando per titoli uno due tre paragrafi e quant'altro posso ottenere degli indici o dei sommari navigabili automaticamente perché questi programmi lo fanno in automatico con discorsi sommari automatici navigabili è uno dei principi che era alla base anche del documento mi sembra 2008 se c'è Fabrizio mi può confermare invece dell'accessibilità dei documenti che è stato successivo a quello della legge stanca vedete e qua vediamo l'effetto poi lo vedremo anche in maniera più diretta stiamo parlando adesso cos'era ecco le linee pedagogiche per il sistema integrato 06 ecco la prima cosa che noi faremo è quello di prendere un documento e di estrarne estrapolarne la struttura parte 2 una società di disuguaglianza e povertà è chiaro che si tratta di tre titoli di livello differente titolo 1 titolo 2 e titolo 3 a sinistra è il documento che noi scarichiamo dal ministerio che ripeto ha mille pregi però si sono dimenticati questo aspetto quello sulla destra è quello che invece ho voluto ricostruire perché ho un programma che mi consente di aggiungere questa informazione laddove manca e vedete sulla sinistra no questa so come dire barra di navigazione un ecosistema io vado a cliccare su 2 e automaticamente il testo va lì le cogliete il valore di una cosa di questo tipo la conoscevate già innanzitutto c'è qualcuno che già sapeva questo aspetto qua che l'ha già visto sì io l'avevo visto ammetto è una cosa che non ho mai utilizzato tanto e che molto spesso mi capitano dei pdf in cui c'è degli altri in cui non c'è e l'ho sempre spesso sottovalutata ecco invece è proprio un ausilio alla lettura fondamentale molto importante che rende immediatamente quel documento un documento molto più utilizzabile se i documenti che noi pubblichiamo come pubblica amministrazione e scuole hanno lo scopo di essere letti perché se sono così un fastidio burocratico non poniamoci il problema li facciamo alla peggio e chiuso lì se invece pensiamo che possano avere un senso e ovviamente i documenti le linee guide le indicazioni hanno un strasenso perché sono quelle che in pratica indirizzano dovrebbero indirizzare l'attività con i nostri bambini e le nostre bambine se ci ricordiamo questo aspetto qua le facciamo circolare molto meglio ricordiamo il discorso precedente adesso vediamo alcuni brevi riferimenti sono le se abbiamo ancora un'ora e dieci un'ora e un quarto quindi adesso in questo quarto d'ora noiosamente faccio soltanto un riepilogo di alcune notazioni che poi vedremo nell'esercitazione di tenere presente allora l'iconcina mostra nascondi qualcuno sa che cos'è o qualcuno non lo sa così magari vediamo di capirla meglio la conoscete l'iconcina mostra nascondi che c'è negli elaboratori testi è un'iconcina Maria Cristina che ti consente di vedere i caratteri nascosti e quindi ti consente di vedere la fine dei paragrafi tu sai che per andare a capo noi con la tastiera abbiamo due modi invio che cambia paragrafo e shift invio cioè freccia in alto più invio una combinazione di tasti che mi fa andare a capo mantenendomi nel paragrafo se io faccio il centrato e faccio uno shift invio tutto rimane centrato se io faccio un invio col paragrafo e separo i paragrafi il centrato che è un elemento diciamo un attributo meglio di paragrafo andrà solo in uno dei due ok quindi averla attiva è importante perché è importante perché già capiamo una prima regola di una buona scrittura di un documento che è cosa che molte volte siamo portati a fare quando così abbiamo un po' l'urgenza di fare i documenti spaziando un po' mai fare doppio invio doppio invio cosa vuol dire vuol dire che io spazio in verticale con in maniera artificiosa non semanticamente corretta perché fare doppio invio vuol dire fare due paragrafi di cui uno è vuoto e poi come se uno stesse leggendo qualcosa oppure fosse in una conversazione più dice che cosa hai da dire niente perché hai fatto in pratica una unità di discorso una unità di testo vuota e oltre tutto è un disturbo per chi usa gli screen reader quindi se io voglio spaziare in verticale vedremo che useremo altri metodi molto più corretti e più coerenti perché mi li porto avanti in tutto il documento mai uno spazio più di uno spazio tra parola e parola non produrre allineamente con la barra spaziatrice cioè io non vado a spostare la firma con la barra spaziatrice quando poi dopo magari metto la firma ci sono poi dei segni che la stampante interpreta in modo strano perché non viene neanche a volte allineato ma si usano o i tasti tab o meglio ancora i rientri l'apostrofo pensiamo sempre chi usa gli screen reader abbiamo capito chi usa gli screen reader sono coloro che ascoltano invece di leggere con gli occhi allora l'avvio dell'attività non si scrive con l'apostrofo spazio avvio delle attività e qui ho sbagliato e volevo scrivere con la a e poi l'apostrofo perché se no viene letto l'avvio delle attività e poi c'è l'apostrofo vanno accentate nella lettera quindi mai come a volte facciamo necessariamente con le mail che non per cui non abbiamo la facilità di avere le lettere accentate a volte ma adesso le abbiamo con le tastiere però ho fatto un esempio un po' è la verità e comunque insomma è sempre opportuno necessario meglio accentare direttamente la lettera ecco perché l'avevo scritto sotto l'accento non può essere sostituito dall'apostrofo ok non scrivere i nomi dei destinatari oggetti tutto in maiuscolo il tutto maiuscolo è più difficile la lettura c'era un grande usabilista scusate che andare un attimo ad aprire questo lo taglieremo nella registrazione scusate allora c'è un grande usabilista che si chiama Jakub Nilsen che è un persona tra l'altro che ha fatto veramente una fortuna enorme dal punto di vista dei suoi primissimi libri sulla usabilità dei testi l'usabilità dei siti web che appunto ha fatto delle indagini per vedere la velocità di lettura di un testo tutto maiuscolo rispetto a che è un testo col minuscolo mi sembrava ci fosse un 30-40% di difficoltà nella lettura del maiuscolo maiuscolo naturalmente può andare bene con i bambini piccoli c'è anche il vantaggio a volte del maiuscolo per bambini con DSA o altro però se noi ci riferiamo a un cittadino adulto l'indicazione è di non utilizzare il maiuscolo se non in modo proprio limitato teniamo conto che il maiuscolo ad esempio nell'email o quant'altro sapete che equivale un po' come gridato le sigle e gli acronomi vanno scritti senza punti intermedi alcuni sostengono che quando le scritte degli acronomi sono di testi leggibili facilmente e hanno più di sei caratteri tipo UNESCO UNICEF o quant'altro si consiglia di mettere maiuscolo soltanto il primo carattere poi i numeri primo secondo terzo quarto e quinto sono numeri romani non si mette l'esponente email questo ci sono ultimamente anche delle diverse letture però quella più utilizzata è l'email scritta così con la lettera iniziale maiuscola i nomi dei giorni della settimana e dei mesi questo è stato anche indicato con chiarezza dall'Accademia della Crusca già da qualche anno a questa parte come nomi comuni si scrivono in minuscolo 3 aprile non 3 a maiuscolo aprile lo stesso per mercoledì o per martedì negli indirizzi anche lo stesso vale per via e piazza in quanto si tratta di nomi comuni poi le date noi dobbiamo sempre immaginare che noi scriviamo per chi legge quindi se non stiamo facendo una compilazione di un form che ha dei campi obbligati e dobbiamo mettere la data di una circolare piuttosto che la data di non so di una delibera all'unanimità o a maggioranza oppure maggior ragione dobbiamo anche fare una comunicazione queste regole valgono anche ovviamente per i testi delle mail non scriviamo non so il consiglio d'istituto si riunisce il giorno 02 barra non so 12 barra 2021 perché perché quello fa richiedere a chi legge uno sforzo interpretativo maggiore e siccome non ci costa nulla ed è anche molto più bello esteticamente si scrive come si legge e quindi 2 dicembre 2021 se uno vuol mettere l'anno è chiaro che se stiamo facendo consiglio d'istituto tra dieci giorni non sarà mai nel 2022 nel 2020 quindi teoricamente l'anno si può essere omesso e questo è importante perché distingue quella che è la comunicazione la relazione con le persone dal documento burocratico che invece richiede a volte qualche attenzione aggiuntiva un altro elemento che mi piace sottolineare spesso quando facciamo ad esempio scriviamo nei siti web nel sito della scuola piuttosto che in tante altre comunicazioni all'interno della circolare se io ho il consiglio d'istituto il 2 dicembre sparando una data a caso che peraltro è già passato se io dico si terrà il 2 dicembre alle 15.30 ecco due parole su questo il 2 dicembre cosa fa il genitore la prima cosa che uno si chiede è la stessa cosa che ci chiediamo noi quando leggiamo di un evento a Natale Natale è più facile però è mica il 25 non sappiamo spesso se è sabato o venerdì o altro aggiunge i giorni della settimana anche questa è chiarezza di linguaggio e avere attenzione verso chi ti ascolta quindi il consiglio d'istituto si riunirà è lunedì lunedì 2 dicembre alle 17.15 ok non il 2 dicembre non il 02.12 l'ora tendenzialmente ormai è convenzione comune non scrivere non scrivere l'ora nelle maniere più non so come dire originali e differenti magari una volta mettiamo la virgola una volta mettiamo il punto mettiamo le volte i due punti sarebbe opportuno scrivere sempre uguali la notazione la convenzione ormai internazionalmente più comune e quindi che è diventato anche un po' uno standard è mettere i due punti quindi 17 due punti 15 non 17.15 non soprattutto 17.15 che tra le varie forme è quella meno corretta o più scorretta le firme nelle firme non si usa adesso qui magari non so capisco che ci possono essere delle percezioni diverse può dipendere anche a chi scrivo magari se scrivo l'assessore è diverso che se scrivo non so ai docenti o miei docenti o quant'altro comunque è un pochettino si dice un po' provinciale mettere il titolo di studio dot prof o altro perché è automaticamente già contenuto nel ruolo che uno ha è chiaro che se uno è un insegnante delle scuole secondarie sarà un prof quindi l'indicazione che a volte si dà è proprio in questo concetto di evitare il superfluo è questo e poi l'altro fondamentale è non diffondere pdf sull'immagine io poi vi lascio questa presentazione l'avevo fatto nelle mie due amate scuole sia corsico che merate questo è quello di merate è una specie di segnalibro di consigli quelli che ho appena detto sono in buona parte riportate lo si può vedere come pdf e lo si può anche scaricare in formato odt o doc nel caso abbiate piacere di riprodurlo a posto che ci merate c'è scritto un nome scuola e uno mette quello della sua scuola non è un gadget ma una piccola cosa allora andiamo adesso sull'aspetto più formale allora elementi di leggibilità di facilità di fruizione allora innanzitutto nel momento in cui noi scriviamo con l'intenzione di farci leggere il più facilmente possibile utilizziamo alcune convenzioni che sono più tipiche della lettura su digitale rispetto che su carta su carta il font più comune è il times new roman che però anche qui i test di usabilità hanno dimostrato essere meno leggibile si dice scegli dei font senza grazie o cosiddette a bastone che sono l'aria il verdane il taoma sono fondamentalmente i più utilizzati poi ce ne sono anche altri che funzionano il vantaggio di questi tre che sono tre font che vengono letti e gestiti bene anche dai diversi sistemi operativi quindi il sistema operativo che utilizza Apple e soprattutto il sistema operativo legato a Linux perché altri invece sono font proprietari ad esempio Calibri è un font proprietario di Microsoft quindi consiglio è di avere dei font che funzionino su tutte le piattaforme nello stesso modo poi l'interlinea cos'è l'interlinea è lo spazio tra le righe di un testo si consiglia almeno il 120% in LibroOffice si dice proporzionale 120% in Word si dice multipla 1,2 la sua divisione in blocchi logici la vedremo successivamente avere cura degli elementi di impaginazione cioè marcando i testi e quant'altro l'allineamento l'allineamento che ormai un po' tutti i testi di usabilità consigliano è l'allineamento a bandiera cioè allineato alla sinistra piuttosto che quello giustificato che vuol dire il doppio allineamento a sinistra e a destra questo perché molte volte i nostri testi sul digitale non hanno né la sillabazione né la possibilità di variare in modo millimetrico gli spazi tra i caratteri quando abbiamo delle parole piuttosto lunghe dovendo andare a allinearsi a destra e a sinistra queste parole spingono sui lati e rischiano di creare delle lacune in mezzo bianche che sono abbastanza vistose al di là di un aspetto antiestetico sono una barriera per le persone ipovedenti le persone ipovedenti sono persone che ci vedono ma hanno bisogno di ingrandire molto ci vedono poco ingrandisce 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 evidentemente quegli spazi bianchi si dilatano e diventano come dei mari di neve bianchi dove non trovi l'appiglio perché non trovi o fatichi con lo sguardo a ritrovare la parola prima e la parola dopo sono lontane e quindi perdi senso della frase quindi ecco perché si consiglia il testo allineato a sinistra e come diciamo modalità per testi che vanno sul digitale no il sottolineato questo io mi sento proprio di raccomandarlo tantissimo se noi vogliamo dare enfasi importanza a una porzione del testo non dobbiamo sottolinearla per due motivi innanzitutto il sottolineato è una fatica visiva in più e soprattutto rischia di perdermi l'interline insomma mi rende più difficile la lettura soprattutto quando il sottolineato è più di una parola ma è addirittura una frase questo è proprio un blocco alla leggibilità e allora non il sottolineato e per un altro motivo ormai la fruizione dei testi avviene prevalentemente sul digitale quando avviene questa lettura da un computer che quindi pur miniaturizzandosi spesso a volte sono anche insomma dei display abbastanza grandi il sottolineato evoca link è una delle regole di ancora di usabilità nel trattamento dei testi evitare di indurre delle azioni che portino a risultati opposti rispetto alle attese allora siccome il sottolineato nella storia del web ha indicato ed è diventato d'uso comune come elemento che indica il link io non uso il sottolineato per altri motivi aggiungo un'altra piccola riflessione di inclusione non funziona anche se è bello per chi ci vede non funziona il variare il colore e il link cioè io metto il link scrivo in nero e i link sono tutti blu o i link sono tutti che ne so rossi oppure hanno un'altra oppure sono anche in grassetto no perché perché per quello che riguarda il colore taglio fuori e quindi metto una porta chiusa verso chi ha problemi di distinguere i colori i daltonici piuttosto quelli che fanno fatica a distinguere non so colori differenti quindi il sottolineato è sempre per i link molto meglio rispetto al colore il colore è una disattenzione inclusiva anche se è bella da vedere e qui in questo caso uno sceglie vuoi fare una cosa più bella da vedere vuoi fare una cosa dignitosa ma che non dica tu tu non puoi scuola istruzione bene comune cultura io dico dobbiamo avere le porte aperte a qualsiasi fruizione meglio il minuscolo l'avevo già detto c'è lo troverete forse nell'appendice se non c'è la metto un riferimento a un diciamo un documento della commissione europea si chiama la commissione interistituzionale di redazione dei testi tradotto in varie lingue o meglio non tradotto scritto in varie lingue con le caratteristiche delle varie lingue e appunto c'è una frase molto forte su questo nella paragrafa del maiuscolo maiuscolo dice deturpa peggiora insiste da delle sottolineature sbagliate dei testi e quindi si consiglia il minuscolo io personalmente docenti genitori dirigente scolastico lo scrivo in minuscolo come nomi comuni di persona poi voci di lista lo vedremo con lo spazio verticale quando avremo l'occasione elementi di accessibilità o quello che ho detto prima all'inizio va mantenuto ricordiamo i contrasti perché persone ipovedenti fanno fatica c'è un colore magnifico che però ha molte difficoltà di accettabilità nei contrasti dell'arancione poi chiarezza del linguaggio la chiarezza forse a volte si ignora la chiarezza frasi brevi documenti non enormi le stesse cose cerchiamo di dirle con il minore numero di persone possibili una cosa che dico a me perché questo non sono tanto bravo non sono capace io purtroppo sono amante degli incisi e andrebbero eliminati il più possibile perché rendono il testo molto meno comprensibile soprattutto a chi ha livelli di istruzione minori quindi TOF non enormi più essenziali precisi ben fatti leggibili con anche qualche parola in grassetto che costituiscono un po' dei punti dei riferimenti degli agganci poche parole ma quelle che servono piuttosto che fiumi di parole che poi nessuno leggerà e che rendono il nostro documento magari bello ci sembra che sia bello io purtroppo sono anche questa una cosa che devo imparare a fare faccio ancora documenti molto lunghi ma so bene che è un errore di comunicazione importante evitare tecnicismi pensando che chi legge non conosce tutte le nostre parole limitare il più possibile l'uso delle parole inglesi io ad esempio ho un po' di allergia verso Mission Vision e compagnia bella però al di là di questo cercare di limitarle all'essenziale c'è una grandissima bravissima divulgatrice persona molto in gamba anche dal punto di vista della pubblicità che si chiama Anna Maria Testa che mi sembra nel 2015 ha lanciato una campagna molto interessante dal titolo Dillon Italiano quindi per quanto possibile usiamo terminologia non straniera a meno che si tratti di parole che perdono senso nel momento in cui vengono tradotti in italiano e per quello che riguarda il corsivo qui non l'ho detto il corsivo andrebbe utilizzato o in qualche riassuntino ne fa l'uso le linee pedagogiche 06 come proprio introduzione postarci parole straniere e titoli di libri film o quant'altro e basta eventuale glossario è un qualcosa di molto utile per il POF ve lo consiglio mettere alla fine anche se diventa qualche pagina in più una sezione glossario è un termine un po' tecnico che forse è brutto potremmo mettere non so le parole della scuola dove magari con qualche riferimento preso anche del sito del ministero andate a precisare si parla di Gli cos'è il Gli si parla di PTOF di POF o POFT come altri preferiscono pronunciare che significato non possiamo dare per acquisito che tutti abbiano il nostro gergo perché il piano dell'offerta formativa così come i vari protocolli non sono dei documenti interni non ne avremmo bisogno ma sono dei documenti per l'esterno e quindi non devono essere ricchi di tecnicismi e devono per quanto possibile fare un uso parsimonioso delle sigle e poi a volte descritte di fianco e comunque avere magari alla fine un appendice con un elenco delle scuole questa è una cosa che si può fare anche collaborativamente le scuole si possono mettere insieme tanto quelle delle scuole sono quelle e poi se lo dividono noi una volta avevamo fatto una cosa di questo tipo poi un'altra cosa è la cura dei titoli dei vari capitoli no qui vabbè bisogna andare un po' sul web ci sono tanti suggerimenti la maestra maestra delle maestre delle maestre è Luisa Carrada il suo meraviglioso blog mestieridiscrivere.com è un sito che poi ha annesso un bel blog di una chiarezza che è assoluta e ci dà molte molte indicazioni utili va bene poi nella gestione dei documenti è anche opportuno avere un modello unico due parole perché se no poi penso di essere già stato ampiamente noioso e mi scuso allora paragrafo e frase teniamo conto che non sono la stessa cosa la frase è l'unità minimo di comunicazione piove è una frase un paragrafo può essere costituito da più frasi la suddivisione in blocchi che abbiamo visto in quel documento delle indicazioni delle nuove indicazioni nazionali la suddivisione in blocchi non vuol dire ogni volta che c'è il punto piazzo un invio e lascio uno spazio verticale perché posso anche fare punto e di seguito pure punto stando nel paragrafo perché altrimenti se io esagero tra frasi non troppo lunghe e continuo invii con spazio verticale invece che guadagnarli perdo tutte le buone intenzioni che avevo questo ve lo lascio è un giochetto per andare a leggere un indice di leggibilità è stato fatto da un gruppo universitario e nella pagina precedente trovate qua anche due link per fare una prova ma non abbiamo tempo mi spiace vantaggi dei titoli abbiamo detto vado un po' veloce adesso e io direi di andare a degli esempi allora volevo e ci sono domande è chiaro tutto quello è un po' noiosetto mi scuso è chiaro un po' l'impostazione che abbiamo dato le indicazioni vi ritrovate? tutto chiarissimo ma per niente è noioso va bene allora vediamo adesso un documento e prendiamo le linee pedagogiche 06 tra l'altro queste le trovate se ve lo annotate sto link in qualche modo questo casomai lo metto poi faccio il passaggio ctrl c torno indietro e me lo metto la chat come posso fare vediamo chat qui trovate i documenti il documento di cui sto parlando ok quindi vi servirà poi per l'esercizio allora vediamo un attimo questo documento qual è che vogliamo vedere le linee pedagogiche mi sembra no e questo linee pedagogiche è questo che in quella pagina che vi ho dato è segnato con la freccia io andrei alle bozze ok vedete questo è il documento uscito questa primavera c'era ancora il nostro compianto grandissimo Giancarlo Cerini come presidente ora vediamo che qua noi abbiamo un indice vedete la struttura titolo 1 premessa parte 1 parte 2 parte 3 titolo 2 1 punto di riferimento sicuro 2 gli orientamenti della commissione europea 1 una società in movimento titolo 3 disuguaglianza e povertà famiglie senza reti la dimensione interculturale multilingua i media e la cultura digitale cambiamento nel mercato del lavoro titolo 2 2 2 2 titolo 1 tutti questi 2 1 tutti questi 2 l'ambiente 2 spazio e strutture e arredi è il 3 3 3 ok vi è chiaro? abbiamo il problema di questo documento purtroppo l'indice non è navigabile cioè non ha il link bastava poco vi dico la verità per mantenerlo e sarebbe stato un'utilità poi lo scorriamo allora in base a quello che abbiamo detto vediamo un po' magari andrei dove c'è titolo 1 2 3 vado ancora sopra pigliamo la parte pigliamo la 4 va pagina 21 però posso andare per le pagine insomma questo è una caratteristica allora ditemi un po' cosa vedete di questo documento alla luce di quello che abbiamo detto dovessimo riscriverlo cosa faremmo? è giustificato quindi abbiamo detto che ci sono spazi più lunghi è giustificato e quindi c'è il rischio me lo hanno notato ma poi ho sistemato la scrivania non trovo più il foglio c'è la pagina dove si vede bene una bella lacuna ci sono c'è il rischio di avere qualche lacuna qui non tanto perché in realtà ce ne sono pochi un pochettino questa riga qui se vogliamo nel momento in cui andiamo tanto in grandire si crea qualche spazio un pochettino faticoso di lettura qui non tanto ma ci sono in altre pagine dove questo invece capita quindi la prima cosa che però ripeto è un peccato veniale potremmo dire può anche essere una scelta estetica dettata dall'ufficialità dell'importanza del documento comunque giusto uno l'ho giustificato io non l'avrei giustificato l'avrei fatto a bandiera poi altre cose che vi vengono in mente vediamo un po' qua qui un po' si vede qualche lacuna qua vedete che rende non immaginiamo di leggere bene di qualcuno che ingrandisce tanto vedete c'è uno spazio elevato ecco torniamo però qua cosa su questo pezzo qua una cosa positiva non c'è il rientro il rientro partire da qua spaziando è vero che sottolinea l'inizio del paragrafo ma chi ingrandisce ha una maggiore fatica nel partire infatti i testi devono essere per quanto possibile con la partenza a sinistra tranne gli elenchi puntati e qualche volta qualche titolo centrato allora vediamo anche qua questi sono purtroppo un po' dei blocchi di testo vedete non c'è nessun c'è un buonabbono interlinea ma non c'è nessuna spaziatura per blocchi questo rende la lettura pochettino più impegnativa sarebbe stato preferibile quello invece di avere una suddivisione anche limitata in blocchi del resto gli autori hanno distinto quello che abbiamo visto prima vedete che c'è un punto di seguito quindi hanno detto che questo era un paragrafo che partiva da per finiva vi partecipano perché dopo il punto c'è un'altra frase che dà senso a questa unità logica di pensiero allora se poi tu vai a capo è perché ti prendi una pausa una pausa viene letta soltanto da chi va sul margine destro perché trova questo spazio verticale è un po' casuale dipende anche dal posizionamento dell'ultima parola del paragrafo stesso secondo quei consigli a blocchi sarebbe stato opportuno spaziare un po' in verticale ok poi un'altra cosa positiva prego ma per spaziare in verticale naturalmente l'invio non bisogna darlo quindi aumento l'interlinea anche qua c'è l'invio dato solo che non c'è non c'è stata data l'informazione da chi ha compilato il documento di dire crea ogni volta che faccio un invio uno spazietto aggiuntivo in verticale che mi consenta di suddividere i due un attimo creare uno spazio tra questi e questo l'ha portato come si dice un muro di testo che fortunatamente è però un po' interrotto dalla presenza di titoli differenti fosse mancato il titolo quattro sarebbe stato molto poco leggibile l'ultima riflessione su questo questo è un elenco puntato c'è un aspetto sicuramente positivo che non ho ancora detto e uno che secondo me poteva essere fatto diversamente allora questo è un evidente elenco puntato perché vedete che lo star è bene in contratto in contatto scusate con l'altro da sé sono allineati questi due pezzi non sono andati dall'altra parte e quindi è giusto è anche esteticamente bello guardate bene come finiscono e ragionate in verticale uno in più e uno in meno si vuole intervenire allora non ci sono niente inizio dei paragrafi può essere però positivo per il motivo che ho detto il punto è virgola si è positivo o è negativo il punto è virgola è negativo forse perché è un in più no 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 è giusto allora come si gestiscono le liste dal punto di vista della scrittura delle liste ho dimenticato di dirlo due modi se sono all'interno di una frase dalla loro interazione emerge una matrice curricolare in cui possono essere promosse e sviluppati due punti e poi ce ne elenco vuol dire che la unità di questa frase termina con l'hatch cioè la lista è parte integrante ok e allora in questo caso quando sei quindi all'interno di questa unità logica tu fai precedere la lista dei due punti è correttissimo chiudi ogni voce di lista col punto e virgola e l'ultimo col punto adesso c'è questo h però l'ho visto in altri punti che era giusto vedete con il punto tutti col punto e virgola tranne l'ultimo che è il punto e così questa è l'unità logica giustissimo una piccola cosa non so se è una una pignoleria è che se io non sto a vedere questo punto qua mi sembra tutto 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 attaccato quindi sarebbe opportuno avere un minimo di spazio in verticale che separi i punti uno dall'altro visivamente questo mi consente una più diretta so come dire percezione della dell'individualità dei singoli punti se no sembra tutto insieme questo vale anche nel momento in cui noi facciamo le presentazioni andiamo a vedere qua dove c'erano dei punti e scusa Alberto per fare questo mi puoi ripetere come si fa facendo shift e invio no 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 e facendo mettendo degli elementi che adesso vediamo con word ad esempio però l'effetto è questo lo vedi qua Isabella sì sì allora eventuale glossario vedi che su due righe ed è lo stesso punto sì e vedi che c'è un pietino più spazio tra qua e qua certo aspetto che da glossario e termini specifici che vantaggio ha dal punto di vista della lettura che tu estrapoli più facilmente il punto non so se lo spiegato la maglia è visibilmente è visibilmente differente e questo è uno degli elementi di leggibilità meno considerati e invece importante secondo me va bene allora vediamo adesso una piccola trasformazione dei documenti e poi c'è l'altro elemento che è l'ultimo prima di vedere l'esercizio allora l'altro elemento che noi vediamo è che qui io non ho la possibilità di scorrere il documento se non in questo modo teniamo conto che oltre a noi che vediamo chi usa gli screen reader sia nel web che nella gestione dei documenti digitali ha nella tastiera un tasto importante che consente di giostrarsi all'interno dei titoli quindi anche i pdf marcati così come i siti web ben strutturati nelle pagine consentono alle persone non vedenti di fare quel lavoro che noi facciamo con gli occhi quando leggiamo il giornale cioè noi scorriamo velocemente e la nostra attenzione viene a essere catturata dal titolo allora così evitiamo che il nostro lettore non vedenti si faccia la lettura sequenziale ma possa passare da un settore all'altro semplicemente con un tasto che gli legge solo i titoli andiamo a vedere allora l'esito allora facciamo questo con ha però una piccola controindicazione vi dico la verità allora cosa è che è successo che prima non c'era questa vedete voglio andare voglio leggermi la riscoperta dell'infanzia tac ecco la riscoperta dell'infanzia la continuità del percorso educativo tac la continuità del percorso educativo voglio andare a osservazione sono su osservazione ecco questo vuol dire strutturare un documento questo vuol dire strutturare salvare il documento mantenendo la struttura e queste che in termini tecnici vengono chiamate segnalibri vi è chiaro? lo vedete la differenza? sì sì bene allora adesso andiamo sul numero 6 anzi sull'esercizio questo ok e proviamo no non era questo vabbè poco importa volevo fare uno che aveva anche allora l'ho fatto su un altro documento e non su questo non importa facciamo questo no perché devo fare solo uno che inizia forse questo ok sì proviamo a fare di questo un esercizio in Word che è quello che vi lascio vedete il vantaggio della il documento originale è stato fatto con attenzione no che non è un documento immagine io posso farmi un CTRL-C me lo copio poi vado ad esempio in Word poi vi faccio il video tutorial con Google e con LibreOffice faccio qua faccio un CTRL-V e mi viene qua riuscite a vedere? sì allora vediamo un po' i passaggi primo elemento importante ad avere sempre visibile questo tasto che mostra e nascondi questo mi dice se ho paragrafi vuoti se voglio fare uno spazio non faccio questo perché creo degli spazi vuoti quindi come si gestisce tutto questo? si gestisce con gli stili vediamo un po' sotto e vediamo vediamo se c'è qualcosa che non ci convince è tutto a posto bene allora immaginiamo che questo è un titolo 1 va bene? come facciamo per creare questo come titolo 1? dobbiamo utilizzare la strutturazione dei testi con gli stili tutti i programmi citati LibroOffice Google Writer Google Document hanno la possibilità di gestire gli stili del documento che sono l'elemento fondamentale per garantire questi passaggi cliccando in Word in particolare su questo quadratino li vedete anche qua descritti e riportati in una finestra a fianco possibile andare su questi anche cliccando sul tasto in basso c'è un interessante cancella formatazione che mi consente di partire totalmente da zero bene andiamo qua andiamo su qua facciamo pure che partiamo da zero facciamo selezioniamo tutto il testo e cancelliamo la formattazione in questo caso mi piace sottolineare questa cosa che ha fatto automaticamente Word cosa ha fatto Word in automatico avete visto che ha spaziato perché in automatico il autore dei testi quando dai l'invio nelle sue ultime versioni LibroOffice mi sembra che tu lo fai manualmente già ti spazia quelli che sono l'inizio e le fine dei paragrafi e quindi si ottiene già parte dell'effetto che si voleva naturalmente se uno ritiene che questa parte è molto coesa con la precedente invece che fare un invio cioè un fine paragrafo cancella o va di seguito oppure fa Shift invio e vedete che il carattere nascosto è diventato questo simbolino di questa freccia in questo caso tutto il paragrafo risulta più lungo lo potete centrare vedete che centro solo il paragrafo e non quello sotto bene la prima cosa che sostanzialmente si fa dopo che voi avete tolto tutti gli stili precedenti è quello di andare a modificare lo stile del paragrafo che in Word è normale come si fa? si clicca in corrispondenza di normale tasto destro modifica oppure allo stesso modo in questa barra sulla sinistra tasto destro modifica e si sceglie un carattere diverso magari dai calibri poniamo non so il classico Verdano il Taoma 11 un carattere già abbastanza molto più grande rispetto a calibri io solitamente uso l'11 però per avere maggiore fedeltà rispetto al testo iniziale metto i 10 automaticamente vedremo cosa capita poi vado in formato paragrafo e gestisco i due elementi fondamentali della spaziatura verticale e la stessa cosa che riguarda un po' con Isabella si diceva la parte riferita agli elenchi puntati sono la spaziatura prima e dopo l'interlinea multipla rifacciamo sono in normale modifica stile ho scelto il carattere vado adesso a cambiargli queste informazioni sulla paragrafo formato paragrafo spaziatura questo pezzettino prima 6 punti dopo 6 punti multipla 0,8 è come l'8% facciamo 20 120% prima il 108 ok adesso vedrete che in un attimo tutto il testo ha cambiato carattere interlinea e spaziatura verticale avete visto non so se l'avete notato e questo è stato fatto adesso devo dare invece una formatazione ai titoli adesso per darla ai titoli una volta che io li ho visti in struttura oppure se li sto scrivendo li ho già immaginati devo andare ad essi a titolo 1 2 piuttosto che 3 lo posso fare in due modi in uno dando quello che mi offre già il programma poi modificandolo o addirittura lo posso fare in un altro modo mi prendo il testo che devo marcare come titolo 1 decido come lo voglio magari non so blu poniamo poi carattere a volte alcuni testi dicono che può essere opportuno mettere un carattere un fonte diverso nei titoli io a volte uso Georgia a me sinceramente non piace il maiuscolo c'è una combinazione di tasti che vale sia per LibroOffice che per Word ma non per Google Documents che è Shift F3 Shift vuol dire che la freccia è in alto perfetto vado qua lo ingrandisco un po' poi facciamo un'altra cosa mettiamo un bordo sotto non una sottolineatura perché sottolineatura vi ho detto che non si può un bordo sotto ok vado mi state seguendo bordo in fondo vado qua scelgo lo stesso colore del carattere che se non sbaglio era questo però magari mi confondo e poi lo verifico lo metto sotto ok tutti questi saranno i titoli 1 poi ne vedremo un altro però devo dirglielo che è un titolo 1 adesso vedete che è ancora normale bene vado qua mi cerco qua il titolo 1 tasto destro del mouse aggiorna titolo 1 in base alla sezione tutti questi saranno titolo 1 poi posso fare posso fare il procedimento analogo per i titoli 2 facciamolo adesso in modo diverso prima li marco titolo 2 titolo 2 e poi li modifico questo è un titolo 2 tasto destro modifica torniamo a farlo in Georgia il blu che era un blu più scuro andiamo facciamo non so 14 poi lo diminuiamo poi se vogliamo anche modificare lo spazio sopra e sotto non so ma dopo si tratta di vedere ok ricordate che ne abbiamo marcati 2 vediamo se è vero che cambiano tutti e due il gruppo di lavoro e la continuità vedete osservazione documentazione che è stato cambiato automaticamente l'osservazione doveva essere un titolo 3 andiamo a mettere tasto destro lo cambiamo modifica Georgia ok adesso cosa voglio fare voglio fare il sommario spazio metto qua scrivo sommario o indice vedete lui mi ha preso in automatico il titolo 2 che aveva prima vado con riferimenti sommario sommario automatico e lui me l'ha già messo devo soltanto togliergli questo no fatto qua ho sbagliato faccio così adesso c'è un pezzettino poi per la guida lo farò meglio che non mi ricordo bene come faccio a togliere questo senza che mi rimanga per il momento lo rimpicciolisco al massimo così lo tiro su però questa parte qua poi ve la ve la sistemo perché non va bene se no bene quindi abbiamo fatto questo tolgo questo inutile paragrafo ok file salva con nome prima lo salvo in word lo salvo come word 2003 in modo che possa essere letto da tutto da tutti e adesso devo fare il pdf file salva con nome passaggio del salvataggio in pdf non va fatto con l'automatismo perché dobbiamo controllare che ci sia il mantenimento dei segnalibri salvo come pdf opzioni ecco deve essere attivo questo crea segnalibro utilizzando intestazioni mantenendo la proprietà del documento e soprattutto i tag della struttura del documento per l'accessibilità ok apri dopo la pubblicazione vediamo se ha funzionato avete visto ok è qua osservazione quindi avete visto che si tratta poi di operazioni fin dei conti abbastanza abbastanza limitate e io poi volevo mostrare un attimo le ultime slide perché ve le lascio soltanto così a disposizione con un brevissimo commento in modo che vi possa guidare però mi piacerebbe farvi fare un esercizio che se volete potete anche mandarmi e io poi ve lo posso verificare o correggere cosa ne pensate? va bene va bene ecco nel 2010 Andrea si ricorderà avevamo quel che ti ricordi poffino mi stavo dicendo io conserva ancora le mail con i tuoi esercizi e ti ricordo il poffino e come no il poffino in pratica era mi riferivo a quello nel quello era quando cominciamo a lavorare su queste cose qua avevamo tirato fuori un pof preso da una scuola appunto di una decina d'anni fa e avevamo tolto un po' tutti gli elementi di riconoscimento ed era fatto ancora prima del modello ministeriale però l'idea era vi do queste due o tre pagine e provate a andare a selezionare tutto a cancellare la formattazione e a disporlo secondo i criteri che abbiamo visto adesso non stando a preoccuparsi del lessico che era così non tanto curato o altro poi se uno vuole intervenire anche su quello lo può fare però l'esercizio era quello di ricostruzione del documento a partire da questo quindi diciamo i due possibili esercizi sono uno è questo e poi ve lo metto a disposizione a tutti coloro che siano iscritti e l'altro invece se volete sottopormi un vostro documento può anche essere il POFO o quant'altro se volete andarlo a modificare se lo ritenete utile secondo a questi crismi perlomeno di impostazione di struttura perché è chiaro che poi intervenire sui testi ormai non si può bene e allora niente vi posso dare delle indicazioni se avete dei dubbi potrebbero chiarire preparerò per lunedì prossimo sia una sorta di tutorial dei passaggi che ho fatto in modo che lo possiate ritrovare e poi lo farò anche con LibroOffice e lo farò anche con Google Documents tutta questa procedura marcatura utilizzo delle intestazioni perché anche con Google Documents anche se è un po' meno palese c'è la possibilità di si dice formattare un po' gli stili a piacimento e poi dopo il passaggio in PDF l'unica avvertenza è che da Google Documents l'esportazione in PDF non vi mantiene la struttura con i segnalibri dovete prima scaricarlo in Word e poi dopo fare il passaggio salva in PDF con segnalibri e poi lo vuoi portare anche Indie già al centro aspetta rifacciamo riferimenti sommario sommario automatico ok sommario scrivo indice però c'era anche questo spesso vedi che ho titolo sommario posso anche farlo in questo modo naturalmente l'altro era più veloce però modifico rimetto il mio perché volevo farlo esattamente come l'altro hai capito era questo il mio obiettivo formato bordo che lo creo da qua aspetta era qua un tratteggiato questo visto adesso poi devo ricontrollare che fosse uguale questo era un 16 questo un 16 va bene quindi questo è comunque un modo per poterlo fare va bene per mantenere la coerenza no perché secondo me l'indice è fratello dei titoli successivi no e questo Alberto scusami sì come poco fa mi sono dovuto all'andrata 5 minuti quindi se prima crei i titoli quindi automatico poi ti crea il sommario quindi l'indice assolutamente ecco questa è la potenza della si dice marcatura del testo tu marchi proprio la parola corretta cioè attribuisci una struttura al al testo partendo dai titoli 1, 2, 3 che sono proprio questi qua sì si ho capito una volta che tu li hai marcati hai il vantaggio di averli tutti uguali in tutto il testo tutti i titoli 4 sono tutti visti nello stesso modo lo stesso 3 2, 1 e poi dopo crei il sommario e quando salvi il pdf avendo selezionata la casella con segnalibri hai la possibilità di avere quella utilissima barra sulla sinistra che rende molto più usabile più fruibile il pdf stesso senza ogni volta andare a ricercare o vai per ricerca di parole no? e questo è la cosa comoda scusa Alberto è che si tira pure il numero della pagina dove sta è proprio così e poi non solo quello poi dopo è assolutamente linkato no perché non funzionava stamattina non so però vedi no? vado in osservazione sono in osservazione qui sono sul word ancora e lo stesso e lo stesso lo sono poi nel pdf che ho creato perché anche nel pdf no? dove lo vediamo? vediamo anche là vediamo questo qua linee pedagogiche no qui no perché è quello del test ecco nelle linee pedagogiche poi ho aggiunto una cosa no? ho creato però però scusate però ho un programma apposito anche i link che però riesco a fare soltanto in inizi pagina perché va a puntare a delle pagine perché se avessimo fatto bene tutto partendo dal documento dei test salvato fatto l'indice salvato come pdf si sarebbero mantenuti tutti i link compresi quelli del sommario ok? allora volevo un attimo illustrarvi come si conclude una cosa scusi prima di andare avanti quindi per non interroppere il paragrafo è shift invio shift invio stai dentro il paragrafo shift invio vai a capo mantenendoti nel paragrafo quindi eviti di fare insomma conviene unire le frasi che hanno attinenza logica tra di loro è come quando uno dice prende fiato per parlare no? il fiato penso che uno lo debba prendere comunque però è un po' una pausa no? tra blocchi logici diversi che costituiscono invece una unità maggiore allora poi cos'è che vi ho messo al di là di qualche cosa di sottolineatura sui pdf questo è l'esempio che abbiamo fatto questa è la linea guida qui c'è un pf un po' fino a 2010 che è scaricabile dove che potete poi fare a piacimento l'ho messo su dropbox per cui vi è semplice quindi questo esercizio può essere rifatto poi ho messo un po' di risorse che sono qui sono anche linkate internamente ma le scorriamo alcuni elementi importanti quando parliamo di una buona comunicazione sicuramente lo conoscerete il manifesto della comunicazione non ostile con tanti anche peraltro materiali didattici interessanti questo funziona sulla comunicazione anche nei social qui c'è ci sono degli ultimi aggiornamenti dello scorso anno c'è uno speciale scuola c'è anche una declinazione di queste dieci regole della comunicazione non ostile in chiave inclusiva piuttosto che per la scuola dell'infanzia o altro sono cose interessanti da fare anche in classe poi 4-5 slide invece sono un documento del 2018 se non sbaglio e sarebbe ICT Information Accessibility in Learning scusate la pronuncia dove ho riportato grossomodo le cose che abbiamo dette però da una fonte molto autorevole però sia per il testo che per l'immagine che per l'audio che per il video ok poi e qui li trovate ancora sono più o meno gli stessi anche sulle presentazioni valgono le stesse regole più il fatto di stare attenti anche all'uso dei caratteri in base alla sala in cui uno proietta le persone attentissime hanno la stessa presentazione magari in due o tre formati diversi a seconda delle caratteristiche di fruizione un conto è fruirlo leggendolo in un incontro online dove si legge bene un conto invece che quando è in una sala magari poco illuminata è in cinquantesima fila per cui lì si è obbligato a usare dei caratteri più grandi e vabbè questo quello di cui forse un po' parlava anche Andrea sulle immagini sui media media non media media assolutamente con la E e se avete dei filmati sarebbe bene descriverli un po' sommariamente a lato oppure fare quella bellissima operazione della sottotitolazione però qui sarebbe un altro incontro è molto bella la sottotitolazione sono francamente innamorato io di questa tecnica e adesso la faccio in questo modo metto sul canale YouTube la risorsa il YouTube mi fa dopo un'ora una sottotitolazione automatica è molto carina anche da gestire perché è già sincronizzata con i tempi e poi vado in fase di correzione perché la sottotitolazione automatica un po' come gli OCR il riconoscimento dei caratteri automatici di PDF immagine non è mai precisissima e quindi a volte sbaglia proprio i termini poi vabbè ci sono tanti altri accorgimenti di cui adesso non faccio tempo a parlare poi c'è una parte sul diritto d'autore quanto riguarda la sottotitolazione di YouTube automatico te la fornisce comunque o devi attivare qualche opzione ora te la fornisce in automatico nel senso che devi andare nell'editor del video e cliccare su sottotitoli cioè modifica video sottotitoli dopo un paio di ore perché occorre un po' di tempo te la trovi e tu poi puoi fare modifiche la sincronizzazione te la trovi già disposta anche nel minutaggio e vai a cambiare le parole e anche a volte gli a capo perché ad esempio un'altra cosa che mi piace provare a fare è un po' quello di avere attenzione alle righe nel senso di non spezzare magari un aggettivo da un sostantivo cose di questo tipo ma di tenere unite le unità logiche anche di lettura e questa è un'attenzione che andrebbe anche usata sui titoli anche delle slide cioè non fare attenzione all'andare a capo in modo da separare anche concettualmente bene quello che è una riga di un titolo o due righe di una titolo questo qui sono le licenze per il libero riuso qui era una slide che ho fatto sui neossunti a maggio quando veniva lasciato i dati per il coronavirus c'era una campagna dati bene comune adesso non c'è più un po' di link ai servizi di risorse educative aperte fatte dalle università in particolare Coursera molto interessante questi MOOC che sarebbero in pratica dei corsi online aperti massivi infatti c'è il link all'università da Ca' Foscari Federica di Napoli Politecnico vari progetti e poi ci sono delle slide proprio prese dalla direttiva Frattini del 2002 quando era stato pubblicato una sorta di vademecum di regolette e di esempi di riscrittura di testi questo è anche un esercizio interessante che si può fare con i ragazzi qui poi c'è un riepilogo questo qui non ho fatto tempo a fare la slide erano i due link da cui prendevo c'era Luisa Carrada ha fatto due bei articoli qui ci sono delle risorse che avevo a disposizione sulla comunicazione inclusa cioè se fin troppa roba forse esagerata me ne scuso e qui ci sono un bel po' di documenti del ministero che ho pensato di rimpaginare con quella tecnica di segnalibri aggiuntivi interessante in particolare quello del piano nazionale della scuola digitale che è proprio un testo molto corposo e che soffre della mancanza di segnalibri bene io penso di essere stato un po' nei tempi adesso però interrompo ho sbagliato qua non era qui era qua va bene spero che non sia stato ripeto troppo cantilenante e sia stato utile